Esaminiamo brevemente come gli storici dell'arte tradizionale e poi quelli un po' più moderni potrebbero guardare ad un quadro come la danza dei contadini di Rubens. Oggi al Museo del Prado potrebbero a fornire un'analisi formale del lavoro in termini di composizione, colore, relazione tra figure, relazione delle figure in rapporto al paesaggio e così via. In altre parole potrebbero fornire un approccio formalistico puramente estetico e fine a se stesso, del tipo che un tempo prevaleva. Un tale approccio ci può tutt'al più dire qualcosa sullo stato ontologico dell'opera, ma non è detto. Discutere B. Discutere la provenienza e la conseguente storia dell'opera. C. Discutere i problemi riguardanti la struttura e la pratica della bottega e il suo livello di relativo coinvolgimento nella produzione del dipinto. Se è attribuibile interamente alla mano di Rubens, se è in parte frutto della bottega, se è un falso realizzato nel seicento o nell'ottocento. D. Esprimere un'opinione sulla relazione che lega quest'opera agli altri dipinti e disegni di Rubens sulla danza, come Il giardino dell'amore e la Kermesse flammando. e esaminare la relazione con altre opere, prima contemporanee, poi della tradizione fiamminga e poi italiana, spagnola e tedesca. Si cercherebbe così di risalire alle fonti visive del dipinto, si discuterebbe il modo in cui si è posto in relazione con esse, si formulerebbero ipotesi su quali siano state le ragioni estetiche, sociali e personali alla base di tale confronto. F. Discutere il rapporto con le incisioni tratte dal dipinto e la possibile rilevanza dei testi nelle incisioni. G. Cercare le fonti classiche del quadro, sia nei testi sia di pura invenzione. G. Attività questa particolarmente favorita dagli studiosi di Rubens. H. Valutare il rapporto esistente tra un quadro di danza come questo e, diciamo, le idee di Leon Battista Alberti sulle figure danzanti, quali indicatori esterni di emozioni interne. I. Esaminare la relazione tra questa immagine e altre di danza, sia del XVI secolo, sia nei secoli precedenti in Fiandra e fuori, ad esempio Bruggiel o i fratelli Beham. L. Spostandosi poi verso la storia sociale dell'arte, considerare innanzitutto il significato che il quadro ha per l'artista. In altre parole, indagare sui significati personali che il quadro ha per l'artista, non sul significato metafisico, ma sul significato psicologico, desunto, per esempio dalla nostra consapevolezza che, come in altri dipinti contemporanei di Rubens, almeno uno dei personaggi rappresenta la giovane moglie Elena. Leggando ciò al fatto che, dopo una lunga carriera politica, egli si è ritirato in campagna, che Rubens dipinse, studiò e ammirò la gente di campagna, che la campagna stessa ha acquistato tutta la ricchezza del beato Sille di Orazio, che dall'altro lato i contadini attraversavano tempi molto magri, perché l'economia agricola, come del resto quella urbana, versava in un periodo di crisi, e infine che, come ho mostrato altrove, sembrava esserci una forte competizione tra tutti gli uomini per attirare l'attenzione delle donne che invece gli sfuggivano e chiedersi che risonanza può aver avuto tutto questo nel contesto della vita vissuta da Rubens? M. Considerare il significato del soggetto per gli acquirenti potenziali del quadro, sebbene sappiamo che, come molti dipinti del tardo Rubens, questo quadro è rimasto di sua proprietà ed è pertanto probabile che Edi lo abbia dipinto solo per se stesso. N. Riflettere su cosa abbia potuto significare un quadro che raffigura contadini danzanti, sempre che siano contadini, all'interno della società in cui è stato prodotto. Michel Baxandel, per esempio, avrebbe probabilmente cercato di procurarsi trattati di danza e di musica, brani sulle rivalità amorose, libri contemporanei sui contadini e sui doveri morali nei loro confronti e così via. Ma come facciamo ad essere del tutto certi del ceto sociale dei danzatori? Sono veri i contadini oppure no? Quali indizi si possono trovare a supporto di una risposta? I vestiti? Il tipo di danza? Potete immaginare quanta ricerca storica occorrerebbe alla fine per rispondere a domande come queste, che ricorrono nella storia dell'arte a partire da scrittori marxisti come Fedrich Antal e non marxisti come Neil McGregor che ha rilevato simili questioni riguardo ai fratelli Lannayen in Francia e Svetlana Alpers che ha scritto a lungo in particolare su questo quadro. o conoscere i modi in cui questi dipinti riflettono o contribuiscono alla conoscenza del ruolo della danza nella Fiandra del Seicento. Gli approcci fondamentali per affrontare un'immagine ricadono in sei categorie. Primo, domande sull'autenticità e l'attribuzione dell'oggetto in cui possono rientrare molte considerazioni incluse le prove documentarie e gli aspetti sociali. Secondo, problematiche sulla provenienza. Terzo, analisi formale. Quarto, ricerche sui significati personali e sulle problematiche della creatività. Quinto, analisi del contesto sociale. Sesto, la categoria forse più trascurata, la più complicata di tutte, ma della quale io mi sono occupato per anni, quella che esamina le reazioni psicologiche. Tutti questi approcci sono validi, ma io, come molti altri, sono preoccupato della tendenza ad allontanarsi sempre più dal quadro, conseguenza forse di un certo tipo di post-marxismo volgare e certamente del visual studies. Nella maggior parte del mio lavoro e certamente ne è il potere delle immagini, ho cercato di mostrare come le pratiche che noi consideriamo occidentali si trovino in realtà anche altrove, così come le pratiche che consideriamo primitive siano alla radice delle nostre relazioni abituali con le immagini. Ho ripetutamente tentato di mostrare come le immagini abbiano funzioni che non sono puramente estetiche, ma che possono essere strumentalizzate e ritualizzate in modi che possono avere o non avere a che fare con la loro condizione estetica e che queste funzioni sono spesso trascurate dalla nostra corsa cieca verso l'estetica. Questo è uno degli obiettivi che ho perseguito nel potere delle immagini, ma allo stesso tempo ero motivato da un altro sentimento espresso come segue da Edmund Leach nel suo articolo Per quanto mi riguarda il problema centrale dell'antropologia accademica della fine del XX secolo non è se dobbiamo considerare i nostri dati da scienziati o da poeti, Ma se possiamo pienamente convincere noi stessi e con noi i nostri colleghi non antropologi che tutti gli uomini e le donne del passato, del presente e del futuro hanno pari uguale dignità e la distinzione tra selvaggio e civilizzato sulla base della quale è stato costruito l'intero edificio antropologico tradizionale merita di essere gettato nella spazzatura. Questa è la posizione ideologica fondamentale che sta alla base del mio libro, ma non è un sentimento che oggi sembra andare molto di moda. Come era prevedibile, con tutte le sue intenzioni liberali, il libro è stato accusato di essere troppo universalizzante, troppo poco attento al contesto, seppure io abbia insistito proprio sull'importanza del contesto, della storia, dell'idiosincrasia e delle particolarità sociali e individuali. Chi conosce il mio lavoro sa già dove voglio arrivare. E' giunto il momento di demolire il muro tradizionale tra le scienze e le materie umanistiche, tra fatto e finzione, tra retorica e proposizionalità. Non mi aspetto nemmeno per un secondo di vedere un umanista trasformato in scienziato o viceversa, ma vi è tuttavia alcune aree in cui l'autocontenimento delle discipline e la loro difesa dei propri paradigmi disciplinari è stata più rigida che nel rifiuto di ripensare la relazione tra biologia e scienza da un lato e tutte quelle discipline che lavorano sulle manifestazioni culturali dell'uomo dà l'etnografia alla storia dall'altro. Certamente il paradigma relativamente rigido secondo il quale tutti i fatti sono storicamente o socialmente costituiti non ci è servito a molto per quanto questi fatti possono davvero essere costituiti o composti per dirla con Heidenbride è essenziale per la salute delle nostre discipline e per la nostra vita accademica che queste barriere cadano non voglio dire che gli storici dovrebbero tornare al vecchio sogno di rendere la loro disciplina scientifica o almeno più scientifica voglio dire che quelli fra noi che sono inclini a farlo facciano davvero i conti con la possibilità che la scienza possa avere qualcosa di utile da dire sui comportamenti degli attori storici così come suggerito da Marcel Mauss Henry Bergson e perfino dal abitus di Pierre Vaudieu Vauda 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 Vauda